Fratelli bianconeri e non, buonasera. Stasera sono qui dalla Camerona a fare il video post-Juventus-Chievo. Partita finita 3-0, cominciata con una formazione e con un modulo completamente fuori luogo, ma io in queste partite ormai conosco Allegri, quindi da un lato è anche giusto che il mister faccia le sue prove per dare spazio anche un pochino a tutti. La partita nel primo tempo non mi è piaciuta assolutamente, è stata una partita confusionaria, brutta, i giocatori sembrava in campo che non sapessero cosa fare. Siamo andati in vantaggio su un autogol, la partita non è che sia stata demeritata, però sinceramente non è stato un grande spettacolo. Ovviamente entrano in campo il fuoriclasse e la partita cambia dalla A alla Z. Ecco che cosa intende Damon quando parla di fuoriclasse. Il fuoriclasse quando entra dalla panchina, o anche se gioca titolare, non è il giocatore che deve far parte soltanto di una squadra, è quello che deve eccellere. Il gol di Higuain, la partenza dell'azione è di Dybala, il terzo gol è di Dybala. Questi sono i giocatori che piacciono a me. Sono i giocatori che ti danno sempre il brivido e che ti possono creare qualcosa in qualunque momento. Dybala è un fuoriclasse, quindi possiamo parlare di tutto ciò che volete, di tutto ciò che vogliamo. Questi sono i fuoriclasse. La partita. Sulla partita non è che ci sia moltissimo da dire, perché francamente è stata una partita, come dicevo poc'anzi, che nel primo tempo ha fatto vedere molta, molta, molta confusione. Nel secondo tempo la cosa è andata un po' meglio, con l'avvento di Dybala, ma anche perché poi si è ritornati al modulo che la squadra conosce meglio, quel 4-3-1-2 che ormai è praticamente il nostro modus operandi. E infatti i risultati si sono visti, ma soprattutto ne gode anche i benefici Higuain davanti. Perché quando tu giochi in questo modo, Higuain è il modulo dove si trova più a suo agio e dove si trova inevitabilmente più a suo agio tutta la squadra. Nel primo tempo ho visto una difesa da horror, da horror. Una difesa con tutti questi mezzi solisti, che poi solisti per modo di dire, è da veramente, mamma mia. Cioè Ligsteiner, Asamoah, Sturaro, Benatia, in campo insieme, tutti insieme non ci possono stare perché fanno confusione. E sono uno peggio dell'altro, uno peggio dell'altro nel senso che non c'è un leader che li possa guidare, che li sappia guidare per orientare. E quando tutti insieme vengono a meno, Chiellini, Barzagli, è normale che un po' si sente. È chiaro che io mi aspetto molto da Rugani. Rugani è quello che dovrà prendere, secondo me, un po' il posto di Bonucci. È ancora giovane, l'esperienza non è tantissima, ma secondo me è un ragazzo che vedremo presto anche titolare fisso di questa squadra. Anche perché vediamo che Chiellini ogni tanto si infortuna. Ecoso, Barzagli, ormai ha 37 anni, e chiaramente il doverlo continuare a pensare titolare mi sembra francamente abbastanza improponibile. Devo dire che un punto in meno lo do a Benatia. Io a Benatia stasera non l'ho visto benissimo, in certi frangenti dalla partita. A parte il gol che ha salvato su quella parata di Scesdi, che se non c'era Benatia era gol certo. A parte quello lì, per il resto l'ho visto un po' timido. Anche lui sembrava non abituato al campo. Questa è stata l'impressione che ho avuto. Per il resto, pratica archiviata, un 3-0 che ci fa ben sperare per il futuro. L'unica pecca veramente negativa di questa partita, purtroppo, è l'infortunio di Mario Mandzukic. Mario è uscito con le sue gambe, però è uscito leggermente zoppicante e credo che non potrà essere della partita al Camp Nou. E quando tu hai un Mario che dentro il cuore non ha un cuore, ma ha una tigre, immagino la sua rabbia per non poter partecipare qua. Ora io metto avanti questo, l'entità del guaio di Mario si saprà domani o al più tardi lunedì. L'ho visto uscire sulle sue gambe. Spero che non sia una cosa grave. Spero, però come diceva giustamente il radio colonista, non credo che riusciremo ad averlo per la partita col Barcellona, purtroppo. E tenuto conto che non avremo Chiellini, non avremo Marchisio, non si sanno le condizioni precise di Chedira che oggi è stato tenuto precauzionalmente a riposo, non lo so, vedremo. Molti dicono, ah sì, vabbè, ma tanto il Barcellona comunque ha perso Neymar, sai quanto ha perso? Sì, però è arrivato Dembélé che non è, mi sembra che non sia proprio l'ultimo arrivato. Comunque, detto questo, sarà veramente una bella sfida. Ma ne parleremo questo nel video pre-Champions, che non è certamente il video di oggi. Questa vittoria di stasera ci porta ai nove punti in classifica. Siamo primi, come ci succede da sei anni a questa parte. Siamo tutti contenti, però ripeto, questa è una di alcune delle partite in cui Allegri ha cercato di mischiare le carte, ma purtroppo questo tipo di giochetti non gli riescono bene. E quando succede così, purtroppo succede sempre che generalmente perdiamo punti. Oggi è andata bene, abbiamo vinto 3-0, è stato un secondo tempo sicuramente molto migliore rispetto al primo che, come ripeto, confusionario. Per il resto credo che non ci sia nulla da segnalare. Per ciò che riguarda invece i nuovi, direi buon Scesni, sicuramente, è un portiere che mi fa stare molto tranquillo. Senza ombra di dubbio, Douglas Costa è un giocatore che lo vedo bene, ma io credo che debba ancora capire il calcio italiano. Il suo modo di giocare, secondo me, ancora non può far parte di questa squadra. Ci vorrà del tempo, bisognerà conoscerlo, bisognerà farlo entrare pian piano nei meccanismi. Sicuramente è un giocatore che ci darà una grande mano, ma quello visto stasera non è che mi abbia particolarmente impressionato. Non giudico Bernardeschi perché, nonostante che abbia fatto un quarto d'ora circa, è difficile dargli un voto. L'ho visto in un paio di movenze piuttosto bene, però credo che stasera è entrato proprio a partita finita, quindi penso che non si possa dare un giudizio definitivo sul Berna. Però io sono uno che ha gran fiducia in questo ragazzo, sono convinto che abbia un enorme potenziale che è tuttora inespresso e credo che anche se quest'anno sarà costretto a fare una buona parte di stagione, di minuti in panchina, sono convinto che pian piano riuscirà a tagliarsi, a ritagliarsi uno spazio. Matuidi bene, devo dire, bene. Diciamo che è il giocatore che forse si è integrato nel gruppo in un modo molto rapido, molto rapido. Vedo che a centrocampo viene molto cercato, è un mastino di centrocampo che è un po' quel giocatore che noi avevamo bisogno, dove avevamo cercato di metterci prima Sturaro, improponibile, poi Rincon, ancora peggio. Lemina forse non era il giocatore giusto, forse non l'abbiamo capito, non si sa, però adesso è arrivato Matuidi, giocatore d'esperienza, è un giocatore dove a centrocampo sicuramente fa sentire il suo peso e personalmente devo dire che mi sta conquistando. Io sinceramente, come tutti ben sapete, è un giocatore che non volevo, a me non è che piacesse tantissimo. Ora, non tirate conclusioni dalla partita di stasera, ho detto benino, bene, però non è il giocatore che io pensavo, speravo che arrivasse. Ma un punto a sfavore io lo do a Pjanic, personalmente. Io questo ragazzo lo vorrei ancora più nel vivo del gioco. Secondo me questo ragazzo ha dei numeri importanti, però è ancora inespresso, secondo me. Non riesco a vederlo ancora come vorrei. Io vorrei vedere un leader. Non è ancora un leader, secondo me. Lo diventerà? Auguriamocelo tutti perché ne abbiamo bisogno. Sia ben chiaro, non lo sto denigrando, assolutamente. Pjanic è un giocatore che ha due ottimi piedi e una ottima visione di gioco. Secondo me dovrebbe sfruttarla di più. Opinione personale di Daemon. Per il resto, ragazzi, poco altro da segnalare. Aspettiamo domani sera gli altri. Domani sera non so se riuscirò a fare il video dopo le partite perché domani parto. Sono fuori per un paio di giorni, rientro martedì mattina. per cui vediamo di passare questi tre o quattro giorni in calma e tranquillità perché ricordiamoci sempre Forza Juve fino alla fine perché Kiev ci aspetta. Ciao.